Viviamo in un'era di grandi cambiamenti. Cambiamenti che si riflettono sulla vita di tutti. Ogni giorno ci sono nuove sfide da affrontare, ma anche nuove opportunità da accogliere. Sempre più persone cercano aziende di cui fidarsi, in grado di rispondere davvero ai loro bisogni reali. Noi di Unicredit sappiamo ascoltare, capire e impegnarci al massimo. Abbiamo la forza e l'esperienza per offrire soluzioni concrete a 25 milioni di clienti in tutta Europa. In Unicredit crediamo in un modo di fare banca che conti, più semplice, più efficiente e più dedicato al singolo cliente. Che si tratti di un individuo, una famiglia, una piccola azienda o una grande impresa. Il vostro obiettivo diventa il nostro. In Unicredit offriamo risposte efficaci, risposte che migliorano la vita di chi ci sceglie. Una promessa che possiamo fare in 14 mercati strategici in Europa e 18 paesi nel mondo. Unicredit, la banca per le cose che contano.